Buongiorno, siamo qua per il paese. Così come aveva annunciato ieri questa mattina alle 12 in punto, il primo cittadino di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, si è incatenato al passaggio a livello della frazione di San Buceto per chiedere una modifica al progetto del raddoppio del collegamento ferroviario Pescara-Roma. Allo suo fianco un centinaio di cittadini con cartelli di protesta. Io dico sia il raddoppio ferroviario, ma il raddoppio ferroviario che non ci penalizzi. Noi oggi stiamo qui alla difesa del territorio, stiamo qui per chiedere all'RFI un colloquio, un'intesa chiara, dove si possono definire quelle che sono le priorità del paese, volendosi, ripeto, il raddoppio, perché non bisogna abbattere case senza motivo, si può tranquillamente deviare, non si può mettere una murata di cemento qui sulla via principale del paese a tagliarci in due, ma c'è la possibilità, come già dimostrata da RFI nel 2018, con un progetto ad ora presentato e da noi oggi riproposto, che stiamo appunto riproponendo tra le interrogazioni, tra le osservazioni, che l'interamento si può fare. Quindi chiediamo un raddoppio, ripeto, con la salute e non con quello che potrebbe essere la unicività verso la persona. Quindi come si legge dai cartelli, vogliamo un paese vivibile, non un paese soffocato. Vogliamo che la salute venga difesa, vogliamo che il territorio venga rispettato. San Giovanni di Atieno ha già dato troppo, ha già dato tanto, sia il raddoppio, sia l'interramento. Evitiamo l'abbattimento delle case, perché io sto in questi giorni veramente piangendo insieme a chi avrà purtroppo la casa abbattuta, perché so cosa vuol dire fare una casa, avere un'abitazione. So quanto sudore, quanto sacrificio, oggi dire sfolla, vai via, perché devi passare ferrovia. Purtroppo ho anche avuto con cittadini che mi sono coduto tra le braccia. E questo a me mi era triste e lotterò fino a quando questo non viene in qualche modo chiarito.